La Borsa di Studi della Fondazione è stata un'immensa fonte di motivazione, nonché un vero e proprio trampolino di lancio. Attraverso la Borsa, infatti, ho potuto partecipare a un viaggio studio a San Francisco per migliorare l'inglese ed inoltre credo di iscrivermi a un Master di Secondo Livello. Il mio internato è focalizzato sulla caratterizzazione di un modello roditore di epilestia post-traumatica. Attualmente il 30% dei pazienti aventi epilestia risulta essere farmacoresistente. La ricerca oggi si è quindi focalizzata sulla scoperta di nuovi bersagli terapeutici. La parte più emozionante di questa esperienza è stata vedere la sinergia che vi è tra ricercatori di laboratori e istituti diversi. Uno dei miei obiettivi professionisti è trovare un'alternativa metodo per l'administrazione di insulina in pazienti di diabete perché la terapia di oggi può essere abbastanza necessaria per alcuni individuoli. Ambisco a ricoprire un ruolo di leadership in progetti riguardanti la salute pubblica. La prima parte più di consiglia che ho mai avuto fatto è stata la mia mamma. La mia mamma ha detto che non stai passare il tempo sulle persone che non valori te. Grazie a tutti